3, 2, 1 Giuseppe Lothrop e Serena che dopo la live minacciosa e poi rimossa nei confronti di Chiara hanno deciso di aprire un'ennesima live per dare le dovute spiegazioni e non a caso la live porta per titolo Live Chiarimenti e Scuse Trop. I due al momento si trovano a Roma e il tutto inizia con Giuseppe Lothrop che ha già tra le mani un bicchiere di birra e una Serena abbastanza agguerrita che risponde subito ad un utente dicendo che lei solitamente è una persona molto educata ma laddove occorre risponde a tono. Le prime domande che vengono poste alla coppia sono decisamente soft robe del tipo come vi siete conosciuti dove vi siete conosciuti e Serena risponde che lei seguiva già Giuseppolo ai tempi delle live con Veronica poi dopo la scomparsa prematura della ragazza si sono praticamente avvicinati conosciuti ed hanno deciso di incontrarsi di persona. Poi la parola passa a Giuseppolo che dichiara il suo voler cambiare rotta iniziare a fare live tranquille e non litigare più con nessuno mentre invece la Serena espone tutta la sua meraviglia per lo scalpore suscitato per il fatto di averli visti loro al parco che erano leggermente brilli dice questo non vuol dire essere ubriaconi ma in un giorno di festa ci sta andare al parco e spararsi un cartone di vino. Oddio io per la verità non l'ho mai fatto vorrei provare neanche ma siccome io in questa storia ricopro solo il ruolo di umile narratore poco importa e torniamo invece ad uno dei protagonisti di questo mega riassuntone e cioè Giuseppolo Tropp che chiede scusa per il suo comportamento un po' sopra le righe dell'ultima live ma non ritiene di aver minacciato nessuno però siccome era un momento un po' così di festa nel dubbio ha cancellato la live. E poi si riprende il discorso nefasto Chiara D'Alessandro a cui viene consigliato di non fare la pagliaccia su youtube tanto hanno dei procedimenti legali in corso. Dicevamo che Serena consiglia Chiara di fare poco la pagliaccia su youtube tanto hanno dei procedimenti legali in corso e se ha qualcosa da dire lo dirà nell'aula del tribunale. Anche Giuseppolo non le manda a dire a Chiara anzi le ricorda che per anni ne ha dette di ogni su di lui prima che lui poi aprisse un canale ed iniziasse a difendersi. E qui qualcuno potrebbe dire vabbè ma si è difeso in una maniera abbastanza particolare perché comunque poi è andato a riferire anche degli aspetti molto intimi della loro relazione tipo la storia del bidet ecco E cos'è che magari doveva restare privata quella cosa lì anche perché nessuno di noi avrebbe mai voluto saperla. Giuseppolo continua la sua ringa nei confronti di Chiara D'Alessandro e le ricorda inoltre che fu lei a postare il link dell'articolo quello del giornale in cui si riportava la notizia di un reato commesso da Veronica nonché le foto di Veronica stessa. E anche questo equivale ad una violazione esplicita della privacy perseguibile a norma di legge. Parlando del fiorellino milanese i toni si fanno decisamente molto accesi e gli utenti consigliano di lasciar perdere Chiara e anzi di cambiare proprio discorso. Ecco parliamo di cose serie tipo avete sentito che bella R oggi? Eh beh oddio è tornata non ne parliamo più e partono i saluti soprattutto per lo zio di Marcel e chi è Marcel è l'amico di Giuseppolo a cui piacciono tanto le canzoni neomelodiche oddio un altro e quindi lui attacca a cantare purtroppo. Allora ne canta due tre di fila e vi lascio immaginare poi per fortuna il discorso cambia e si parla di Marcel si pubblicizza il suo nuovo canale e si invitano gli utenti ad iscriversi numerosi. A questo punto della live l'euforia proprio è indescrivibile ai massimi storici tanto che Giuseppolo annuncia che a breve organizzerà un incontro per tutti i loro fan romani e per invogliarli all'incontro canta un'altra canzone. Ok non c'entra nessuna a questo incontro. La canzone che segue va in dedica agli anziani che non si possono alzare dal letto dice ma perché sta cosa? Bella domanda boh. E come fosse una tegolata tra capo e collo t'arriva l'ultima canzone della serata. Questa stavolta va in dedica tutta per la sua serena e non appena finisce sto strazio ho detto strazio volevo dire canzone. Lui Giuseppolo in mondo visione chiede davanti a tutti alla sua serena di sposarlo e lei come risponde? Lei un attimo resta così poi dice certo ma è un certo un po' traballante poco convinto. Vabbè ma anche chi se ne frega dopo tutto sono fatti loro poi segue tutta una lunga sequenza di scuse per il loro comportamento diciamo poco civile quello dell'ultima live e promette che loro non saranno più così. Vabbè poi comunque si conclude la live tra saluti frizzi e lazzi e promesse di felicità. Nel frattempo che accadeva tutto questo a Roma in quel di Milano la nostra figona ci proponeva un video in cui si diceva in pericolo in quanto un gruppo di persone si stava adoperando attivamente per farle del male. Innanzitutto si dice molto infastidita per i commenti negativi che riceve sotto i suoi video a causa delle live diffamatorie da parte di Faith e invita i suoi haters a non seguirla se trovano i contenuti così ripugnanti. E anzi nel corso di questo blog andrà a smentire alcune accuse che le sono state mosse da Faith nel corso delle sue live tipo il fatto che le sono state demonetizzate alcune live nonché alcune informazioni relative all'auto che hanno recentemente acquistato. Tipo che non è vero che costata appena 400 euro bensì circa 2000 e si ritorna anche sul discorso del numero di targa divulgato in modo molesto sottolineando che se fosse un atto lecito Allora a questo punto Faith dovrebbe mostrare anche quello della sua di auto. Risce con fermezza di aver pagato tutto senza rateizzare nulla e poi si passa al discorso delle live di cui spiega che è stata lei a privatizzarle ma che è ancora attiva la monetizzazione per ognuna. E a conferma di ciò mostra la dashboard del suo canale dove effettivamente risultano ancora tutte monetizzate. Ora a seguito di questa dimostrazione Chiara si dice sconcertata dai livelli di ossessione raggiunti nei suoi confronti dato che è venuta addirittura a galla un gruppo di persone che indagavano su di lei e di cui faceva pure parte il soggetto che poi ha rilevato la sua targa e l'ha passata a Faith. Pertanto è da ritenersi a tutti gli effetti un'associazione a delinquere. Quindi riassumendo loro hanno pagato 400 euro per il passaggio di proprietà, 2000 euro per l'auto e 1000 euro per l'assicurazione di cui posterà i relativi screen nella sua community. Quindi chi vuole credere crede e altrimenti ciccia. Il fiorellino milanese si dice stanca di rispondere sempre in merito a questa storia, anzi quello che è sicuro è che dopo questa innesima dimostrazione lei non risponderà più in merito a questa storia. E con questa sua affermazione si conclude anche questo suo lunghissimo vlog perché dura circa 30 minuti. E quindi concluso il suo vlog noi andiamo a fare qualche piccola considerazione in merito partendo dal fatto che se la Chiara quest'auto l'ha pagata 100, 1000, 10.000 a noi poco importa anche perché non cambia niente in quella che è l'economia della nostra vita e della nostra casa. Più che altro lei il più delle volte si attira tante critiche negative per questo suo atteggiamento da sborona per cui tende sempre a gonfiare tutto ciò che compra o che comunque le riguarda e a che pro tutto questo per farlo apparire inaccessibile ai più ma poi quando poi esibisce ci si rende conto che è andata al risparmio e quindi ma perché non dirlo dall'inizio? Ecco per esempio io non ho neanche la patente ma mica mi vergogno a dirlo lo dico in tutta serenità. Poi un'altra novità sempre relativa al canale di Chiara è una recentissima live buasta che porta per titolo siete un'associazione a delinquere. Siete curiosi di sapere cosa è successo in questa recentissima live buasta? Bene non vi resta che seguire quello che sarà il prossimo riassuntone anche perché la live in questione che fa pure rima dura anche più di un'ora quindi ma che siete impazziti che vengo a riassumervela adesso. E quindi armatevi di pazienza che comunque entro stasera vi beccate il riassuntone di questa merdavigliosa ultima live buasta. Un utente dice io non so se riesco ad aspettare fino a stasera e gli atevi fa. Io nel frattempo vi auguro buona continuazione di giornata, vi do appuntamento a quello che sarà il prossimo contenuto ma nel frattempo che succede tutto questo un bacio a tutti da Gossip.